Perchè ce ne stiamo qui? A fare questa veglia strana? Io credo che sia un caso. Trasformammo la nostra vita in uno spettacolo. Monticchiello, il paese che mette in scena se stesso. Avete canzionato voi, norni di Monticchiello! Assomigliano veramente alla vostra realtà. È un vivere su questa situazione. E quindi la vita diventava un lungo spettacolo. E se si facesse lo spettacolo è proprio il popolo che si domanda che storia si racconta. Invece la storia si racconta. All'ospettacolo è stivo. Te colana? Mi sono tranquillo. Eh, ho capito. Che problemi hai? Un paradiso com'è questo. Non ti faccio che ordine la panca nelle mani dello Stato. Siamo di cominciare tutto da qua. Ma che dici? Ma dipende la scema. Ma non è vero? Ma quanto sei scema. Il resto del palco rimane in piedi, signor. Per ora, signor. Per andare avanti dobbiamo tutti mettere insieme i nostri sforzi. Buongiorno. 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 Buongiorno.